Bassano. La segnalazione è stata fatta dai cittadini di quartiere 25 Aprile al comando di polizia locale. Quella macchina, una Mercedes grigia con targa tedesca, era ferma sullo stesso stallo da troppo tempo. I cittadini ci hanno visto giusto. L'auto è risultata a essere stata rubata a Monaco di Baviera nel 2015 ad una ditta operante nel settore delle pulizie e la targa era stata inserita in un database di ricerca per i paesi dell'area Schengen. È stata immediatamente sequestrata.